La famosa frase di uno slogan pubblicitario, la potenza è nulla senza controllo, ben si addice alla due giorni e organizzata da CNA al circuito di Pomposa. Veicolo sicuro per guida sicura è il titolo dell'iniziativa che nel weekend ha portato in pista appassionati esperti del settore auto e moto ma anche solo curiosi. Un'occasione anche per imparare a guidare in maniera sicura direttamente con i professionisti. Stiamo lavorando un po' su quella che è l'impostazione di guida sulla seduta, sull'impugnatura del volante, poi sulla lettura della strada, quindi guardare molto avanti, non guardare i primi metri davanti alla vettura e di conseguenza poi lavoriamo nella seconda fase della parte pratica su quello che è tutto il comportamento dinamico della nostra auto. Questo per prevenire tutte quelle varie situazioni di emergenza che ci capitano nella guida di tutti i giorni. La sicurezza stradale passa in buona parte anche dalla lettura della situazione, degli ostacoli, delle mosse altrui ma che a volte possono essere imprevisti e quando si è in moto bisogna stare ancora più attenti. Il problema è di quando c'è qualcosa che non ci si aspetta di fare l'azione giusta perché con la moto se non si sa frenare in maniera corretta si cade, anche se sei bravi a guidare perché l'istinto dato dallo spavento di uno stop non rispettato qualcosa fa fare il colpo del freno che in genere crea dei grossi problemi e qui insegniamo ad esempio a come fare una frenata d'emergenza, che ci sono delle tecniche. A seguito un altro esercizio molto importante è lo scarto dell'ostacolo, quindi per fare l'esempio è la porta che si apre della macchina mentre faccio il passo al traffico e tutto ciò che non mi aspetto e in questo però la consapevolezza di essere in grado di controllare la moto dovrebbe dare anche un po' di serenità e di gioia nella guida e poca tensione. Abbiamo creato questo evento che si è basato sulla giornata del sabato, abbiamo svolto un seminario importantissimo per quanto riguarda tutta la categoria degli autoriparatori. Il significato di questi due giorni è promuovere la sicurezza stradale, sicurezza stradale che si ottiene avendo delle buone infrastrutture, si ottiene avendo un atteggiamento prudente alla guida ma soprattutto per noi, per tutte le nostre imprese di autoriparazione si ottiene avendo un veicolo sicuro e quindi riparato e messo a norma da imprese certificate e qualificate. Diversi gli espositori e i professionisti del settore che in questa due giorni si sono incontrati perché il mondo dei motori ha sempre più bisogno di professionalità imposta dall'avanzare della tecnologia dentro le auto e nelle moto. Tutti i nuovi artigiani è chiaro che siamo nati con una manualità che è un tesoro anche mantenere perché comunque chiudendo certe officine non è che si perde solo l'officine oltre a oneri fiscali che andrebbero a sostituire ma si perde anche un valore che si sta scomparendo quindi dobbiamo insistere sull'istruzione, dobbiamo insistere anche noi che ci diano sgravi fiscali da poter accedere e investire sui giovani perché abbiamo un territorio molto molto anziano e la scomparsa di tutte queste attività non è una bella cosa.